Qua sono caduti circa una pressione d'acqua di 720 mm ora, unitamente al vento circa 70 km orari e la grandine, se vuole può tranquillamente testimoniarla sui tralci, vedere ormai non è rimasto quasi nulla. Una cosa così non l'ho mai vista da quando ho il monitoraggio dei dati aziendali. Giovanni Busanello mostra i numeri di una nottata da tregenda, così come certificati dalla centralina meteo professionale installata a presidio dei suoi campi, diversi ettari sul confine tra Salgareda e Noventa di Piave. Questo è quello che è capitato, in dieci minuti furibondi è il risultato lo testimone delle immagini. In via Concordia poche le colture risparmiate, così vigneti dell'azienda dell'ex campione di nuoto Leonardo Tumiotto, dove si è recato anche il sindaco di Salgareda, Andrea Favaretto, che ha incontrato mamma e sorella. Erano proprio disperate, perché lavorare tanto e poi trovarsi con almeno il 50-60% del raccolto danneggiato. Vedete, questi qui si porteranno oltre i danni locali, cioè odierni, di questa raccolta di uva di quest'anno, quello che ci sarà, ma tutti i danni successivi, nelle annate successive. Il mix di grandi in evento ha spogliato e distrutto i vigneti, ma non solo, con il passare delle ore la conta dei danni si aggiorna al rialzo. Anche il mais, ma anche il frumento che si trova qua vicino, anche aziendale mio, praticamente è distrutto. Il di sopra, franciato, a livello del passato il vento.